Torna sul campo amico del Palafiera l'Ital Service Pesaro per completare un Tour de Force da tre gare in appena sei giorni. Domani, venerdì 17 marzo alle 20.30, c'è la sfida interna con la Meta Catania che precede Pesaro di tre punti in classifica. L'Ital Service arriva al match dopo un punto rimediato in due gare a mare, entrambe compromesse nel finale. Prima la sconfitta 4-3 Ciampino, poi il pareggio di martedì per 2-2 a Nocera Inferiore. Una gara che ha visto il Real San Giuseppe passare in vantaggio per poi vedere i pesaresi reagire alla grande con i gol di João Miguel e Chitola valsi il 2-1 prima di subire il pareggio nel finale. L'Ital Service ora un punto fuori dai play-out ma col fiato sul collo di Pomezzi e Petrarca. Con Catania si confida nella spinta del pubblico peserese per ritrovare la vittoria in quella che sarà l'ultima gara prima delle Final Four di Coppa Italia di Napoli. Proprio nella giornata di venerdì ci saranno anche i sorteggi delle accoppiamenti delle semifinali. Dal calcio 5 al basket, l'Ital Service Loreto Basket, capo classifica della Serie C Silver, è attesa domenica dal big match in casa dell'Urbania, immediata inseguitrice. Loreto ci arriva dopo la vittoria ottenuta 173 contro il fanalino di coda Spoleto.